salva a tutti sono luigi di non solo 3 in diretta da casa mia oggi come a parlare di questo film di cui parleremo quest'oggi ci sarà gabriele dal suo omonimo canale gabriele massarello ciao gabriele a tutti ne abbiamo già parlato sul tuo canale l'anno scorso per la diretta di halloween come speciale di halloween per il tuo canale non so cosa hai fatto film di jimmy gillespie del 1997 il regista il caro jim gillespie aveva già fatto altri film prima di questo si è un cortometraggio in realtà un cortometraggio chiamato joe ride che purtroppo non l'ho ancora mai visto ma dopo questo film che è stato so così fatto realizzato un film con si versi stallone che è detox quindi jim gillespie alla sua prima esperienza cinematografica quindi al suo debutto cinematografico su grande schermo ci porta questo so cosa hai fatto che è tratto dall'omonimo romanzo o meglio è basato sull'omonimo romanzo del 1973 di lois duncan che è stato sviluppato in una sceneggiatura dal grandissimo ormai si può dire che evin williamson che l'anno precedente aveva realizzato la sceneggiatura di scream come hai conosciuto il film l'ho conosciuto tramite il collega qua presente te ne parlai perché ricordo il periodo in cui eri rimasto molto affascinato da dalla saga di scream però sai com'è no ne vuoi sempre di più quindi quando si finisce la quadriologia di scream si dice ok che altro posso vedere il film che sono stati fatti dopo scream perché naturalmente scream è stato lo spartiacque il film che ha portato a un numero sempre più crescente di titoli slasher che sono usciti tra me dalla metà degli anni 90 in poi fino a poi agli anni 2000 dove sono andati un po a declinare comunque a tramontare come nasce questo so così fatto il film di jim gillespie come abbiamo detto è tratto o meglio basato quindi principalmente basato sul romanzo di lois duncan che però prende le dovute distanze dal romanzo comunque facendo rimanere la storia principale cioè quattro giovani ragazzi che vengono che rimangono coinvolti in un incidente stradale che uccide questa persona che loro ovviamente occultano occultano i cadavere di questa persona che hanno per sbaglio ucciso non che investito con l'auto ecco in questo caso nel film almeno è ovviamente il romanzo di lois duncan è totalmente diverso tanto che la stessa lois duncan ha preso le distanze a questo film ritenendolo il classico slasher uscito negli anni 90 perché comunque un po quello che ci aveva insegnato scream era proprio prendere tutti i vari stereotipi dello slasher del genere slasher e distruggerlo quindi praticamente deflagrare quello che era il genere slasher grazie a kevin williamson che è un grande scrittore per quanto mi riguarda che decise di prendere quello che era il romanzo di lois duncan e renderlo più uno slasher quindi letteralmente prendere tutto quello che avevamo già visto nei film di kraven e farlo in chiave so cosa hai fatto ecco diciamo così in realtà non è così tanto diverso da scream perché poi alla fine qui c'è l'assassino che ovviamente mascherato o meglio la sua maschera non è nient'altro che questa cerata nera o spesso venitieri anche già giallognola che indossa appunto perché essendo un pescatore una zona tratto di mare giustamente lui adopera anche questo uncino per uccidere naturalmente anche questa figura se vogliamo definirla tale che appunto è il killer in questo film è nato anche attorno al appunto c'è la famosa scena del film in cui stanno attorno al falò e raccontano la stessa storia da punti di vista differenti che si ricordano diversi dettagli e quindi nasce come leggenda quasi ecco questo esatto questo questo ben willis che poi in realtà è in realtà verrà soltanto chiamato il pescatore insomma quando ti ho ecco in realtà nel tuo caso quando ti ho consigliato questo so cosa hai fatto quali erano le tue aspettative ma guarda onestamente io mi aspettavo che fosse come scream cioè per comunque non sapevo ovviamente che lo sceneggiatore fosse lo stesso ho scoperto poi quando l'ho visto il film un buon film perché la sceneggiatura sicuramente dice ovviamente dal ti precedente che la scream sicuramente chi esce chi l'ha scelto come sceneggiatore ha fatto sicuramente l'ottima scelta alla fine di questo film e le mie aspettative erano diciamo un po non dico altine però mi aspettavo che fosse a livelli di scream cosa che ovviamente non è stata però non è neanche da buttare secondo me come film no no infatti anche perché tra l'altro io devo ammettere che il film l'ho scoperto solo perché avevo questa voglia di vedermi altri film in stile scream e avevo trovato so cosa hai fatto e le mie aspettative all'epoca erano un po come le tue nel senso che mi aspettavo di vedere qualcosa in stile scream ma poi alla fine diciamo che le aspettative che mi ero fatto sono state soddisfatte sì diciamo per certi aspetti sì perché poi alla fine è uno slasher in stile scream e fa quello che deve fare quindi intrattenere divertire quindi diciamo che non sfigura no 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 assolutamente assolutamente anzi e naturalmente adesso parliamo del lato tecnico di jim ghi lespi che comunque ci vado su grande schermo un film che per certi aspetti è un horror in piena regola perché comunque le atmosfere cupe horror e soprattutto ambientate in contesti notturni sono straordinarie soprattutto perché proprio c'è questa oscurità ogni presente che forse un po mancava in scream che ha molto colorato molto acceso poi vabbè c'è tutta la seconda parte ambientata lì dentro la casa però in questo film è quasi specialmente era ambientato di notte soprattutto le sequenze più importanti del film sono ambientati di notte e c'è questa estrema cupezza che le atmosfere orrorifiche di horror di suspense di tensione che sono comunque ben gestite dal punto di vista registrico naturalmente non spicca per una grande regia perché alla fine si purtroppo devo ammettere che è un po confusionaria ma in effetti sì ecco ci sono dei momenti comunque ben gestiti ben dosati al punto di vista anche proprio di messa in scena anche il momento in cui investono questo personaggio che poi loro decidono di occultare anche lì tutta una sequenza basata sulla saspen sulla tensione perché naturalmente vediamo loro totalmente in panico e lì la regia è straordinaria posso dire che ovviamente non è sicuramente una regia sicuramente di mestiere comunque come detto anche se essendo ovviamente al suo esordio come regista ha voluto fare un po come the patent forse un po passavanti ha voluto usare forse diciamo che la registicamente secondo me non c'è niente di particolare a mio parere forse allora delle scene di morte in particolare forse di un personaggio che poi diremo dopo non so se posso dirla adesso ho trovato la sua morte un po un po confusionaria ammetto e di un personaggio in particolare se la morte di un personaggio anche se la scena in sé molto bella scena di inseguimento devo dire che una sequenza che mi piace tanto è proprio anche livello registrico anche livello di montaggio di tutto è la scena della parata perché lì perché c'è appunto il personaggio di sarà Michel Gallagher che insieme al personaggio di Ian Phillips che cercano in tutti i modi di capire dov'è il pescatore ovviamente essendo in una città piena di pescatori ovviamente è piena una città di mare quindi giustamente quella scena ammetto che ogni volta che la vedo insieme a quella ovviamente dove stanno lui diciamo che quella scena lì insieme appunto a quella della parata mi crea sempre una certa ansia con la scena lì la scena della parata perché non sai mai dove due cioè perché le inquadrature ogni volta gli ingilespi inquadra potrebbe essere lui non potrebbe essere quell'altro cioè ti mettono la scena lì esatto sì sì molto ben gestita da quel punto di vista perché gioca tanto sul farti vedere lo stesso personaggio che poi alla fine si rivela essere qualcun altro no quindi anche lì si innesca questo meccanismo di tensione in più perché naturalmente sono anche sulle spine dopo tutto quello che poi succede il film a questo titolo soprattutto perché poi tra l'altro loro riceveranno il famoso bigliettino con su scritto tratto con una calligrafia molto buona devo dire tra l'altro cioè so cosa hai fatto l'estate scorsa che poi è stato anche parodizzato nei vari esatto veniva anche parodizzato in shriek impegni per venne di 17 quindi insomma è stato comunque un titolo che è stato parecchio parodizzato insieme a stream è anche interessante vedere proprio quella quel piano sequenza iniziale in cui parte proprio dal mare e arriva lì sullo scoglio lì sulla scogliera e c'è questo personaggio che non conosce che sta lì a far girare questa monetina e dici che sta facendo e poi partono i fuochi d'artificio si scopre poi si perde in alcuni momenti un po confusionari perché è un po troppo eccessivo vuole cercare di essere un po estroso come film perché vuole fare anche più di quello che è il film di kraven in qualche in qualche modo diciamo che un po come ha fatto che mi guida sono i film precedenti che era appunto scream in questo caso poi parleremo anche della scrittura giustamente ha voluto prendere tutto quello che era stereotipo banalizzarlo ancora di più e renderlo proprio letteralmente la cosa più importante di questo film qui poi in realtà anche questo film per certi aspetti riesce un po a rompere quelle che erano le regole dello slasher principale quindi alla fine è anche un po quello il senso di questo so cosa hai fatto però ecco a riguardo della fotografia devo dire ecco qua credo che non ci sarebbe molto da su cui soffermarsi perché comunque la fotografia l'ho trovata molto buona anche perché non è facile gestire momenti notturni come abbiamo detto soprattutto anche perché poi dirò quella che forse è la sequenza proprio meglio fotografata di tutti i film a parte quella della parata ma anche tutta la parte in cui loro sono attorno al fuoco lì proprio sulla spiaggia che è proprio la classica scena da film horror in cui ci sono i personaggi un po alla venerdì 13 si mettono a raccontare la storia perché in effetti proprio tratto da venerdì 13 quel momento lì nel secondo venerdì 13 l'assassino ti si è d'accanto c'è una sequenza simile dove c'è loro ci sono alcuni personaggi che raccontano la leggenda di turno che era appunto di questo pescatore con la mano uncinata che uccide la gente e tutti e quattro raccontano una versione diversa esatto sì perché poi alla fine è un po quella l'idea di dare un po quel senso di mistero in più di leggenda no quindi di renderlo quasi immortale no questo personaggio cosa che poi in realtà vedremo che non è la cosa qua della leggenda però avrebbe generato un altro se è un'altra serie che è urban legend esatto le leggende urbane che hanno detto ok hanno parlato di scream hanno fatto scream poi hanno fatto so cosa hai fatto che tratto da questa folklore comunque questa leggenda urbana e poi hanno detto facciamo urban legend direttamente tra l'altro una cosa questa cosa vuol dire urban legend nasce dal successo di so cosa hai fatto e di scream a sua volta esatto sì diciamo che sono conseguenziali quindi se non fosse uscito scream non sarebbe uscito so cosa hai fatto e quindi se non fosse uscito so cosa hai fatto non sarebbe uscito urban legend quindi davvero fotograficamente parlando quindi parlando della direzione fotografia tornando a so cosa hai fatto è molto buona ripeto c'è questa atmosfera horror che aleggia e che è molto ricca di tensione ricca di suspense riesce a tenere lo spettatore incollato lì alla poltrona e continuare a vedere a seguire la storia a vedere che cosa sta succedendo perché poi alla fine quello fa il film quindi sei sempre più curioso di sapere che cosa accadrà soprattutto anche perché questa tensione è sempre più crescente e poi soprattutto nella seconda parte del film la fotografia di questo film a me piace molto tanto perché comunque rispetto a scream è un po' più cupo perché comunque è tutto armiato di notte e secondo me ci sta tantissimo che ha molta atmosfera osso dire che le atmosfere che mi piacciono cioè le atmosfere di questo film le preferisco a scream non so preferisco di più le atmosfere che non so allo squalo 4 luglio eh sì in effetti è vero è vero l'ambientazione poi tratto su città di mare forse rende anche di più perché poi essendo il cattivo qui un pescatore ci sta anche tantissimo che sia ambientato in un contesto marittimo no però credo che sia credo uno dei primi slash essere ambientati in un contesto marittimo perché poi alla fine venerdì 13 era ambientato in un lago quindi è proprio questo geniale il fatto visto di di williamson che abbia fatto prima un film che si autoprendeva in giro quasi e poi ha fatto successivamente un film che riprendeva quegli stilenni che in scream prendeva in giro è geniale sta cosa infatti ecco parlando della narrazione di questo film nonché la scrittura stavo pensando cioè in effetti io quello che ho notato è che ha numerose pecca a riguardo della prima parte del film perché la prima parte del film è tutta ben congeniata c'è comunque quella tensione che è sempre crescente c'è anche l'incidente che è un momento anche molto ben scritto soprattutto anche nei dialoghi anche in quel caso ma quello che ho trovato molto più banale in realtà è stato proprio il modo in cui alla fine loro si comportino da classici ragazzi ragazzini dell'epoca no insomma quelli della quinta liceo diciamo così dell'ultimo anno di liceo che fanno appunto l'incidente di turno che appunto è quello di mettere sotto con la macchina quindi di investire questa persona che naturalmente per evitare che i loro futuri vengano compromessi a questo incidente decidono di occultare il cadavere gettandolo in mare esatto e non dire nulla e quindi mantenersi questo segreto fino alla tomba appunto c'è il personaggio di Barry che continua a ripetere fino alla tomba dovremmo tenere questo segreto fino alla tomba e in quel caso appunto come stavo dicendo quindi questa prima parte è molto interessante sì però si perde un pochino perché c'è tutta quella parte in cui c'è il salto temporale e passa un anno e loro si sono un po separati ognuno fa la sua vita non stanno vivendo le vite che avevano prospettato che si prospettavano e si ritrovano con questo bigliettino che diciamo che quella è la svolta il colpo di scena in cui arriva questo bigliettino dove sembrerebbe che qualcuno sapesse cosa hanno fatto l'estate scorsa appunto la narrazione comunque abbastanza lineare nonostante questa pecca di essere un po troppo lento nella prima parte cioè o meglio dal quando c'è questo salto temporale di un anno per quanto sicuramente la sceneggiatura ovviamente a mio parere non è a livelli ovviamente di Scream mio parere coinvolge grazie ovviamente all'ottima scrittura di Kevin Williams come hai detto anche te forse il salto temporale come ci siamo sempre detti forse non funziona tantissimo rispetto a Scream che magari ti facevano vedere adesso non mi ricordo in Scream come ti facevano vedere questo salto temporale se non mi ricordo lì come nel primo Scream era che in realtà quello che era successo l'anno prima noi non l'abbiamo minimamente visto che era la morte ma invece lo vedi e qua lo vediamo certo perché comunque l'incidente qui diciamo secondo me come detto anche te passa un po troppo cioè come si dice quella cosa lì subito stacco di un anno appena a mio parere è buona perché comunque Williamson che comunque l'intenzione il ritmo secondo me nonostante duri quanto dura un'ora e quarta un'ora e quaranta sì un'ora e quaranta sì sì secondo me anche a livello di ritmo secondo me non è affatto male cioè riesce comunque la storia comunque ti prende perché non vedi l'ora di vedere appunto chi ha questo killer vuoi sapere a chi arriverà appunto a chi succederà ai personaggi cioè non dico che ti preoccupi per loro però comunque li abbiamo conosciuti i personaggi quindi sappiamo già ci siamo un po affezionati un pochino perché comunque diciamo che a mio parere a livello di ritmo è molto molto buono secondo me a livello di sceneggiatura è molto buono secondo me c'è sì però c'è anche da dire che però prende molto poco da Scream perché magari Scream lo si può paragonare a questo film perché dici vabbè lo slasher c'è l'assassino devono capire chi è ok però a sto giro in realtà come ci siamo anche detti in privato poi ne parleremo la prossima volta per il secondo film è quasi più Scream è quasi molto più Scream il secondo che questo perché questo film qui sembra questo film è palesemente un giallo cioè sono loro che devono capire chi è che sta mandando questi messaggi comunque che gli sta perseguitando anche la famosa scena che devo dire a forza è un po' invecchiata esatto esatto di giuli che urla che cosa stai aspettando che è un po' imbarazzante esatto che poi c'era Anna Faris che urlava anche lei no devo dire però oggi però un po' imbarazzante a vedere questa scena che cosa stai aspettando che guarda in alto lei come se fosse nascosto sugli alberi però comunque ci sono delle scene anche misteriose tipo io ancora oggi non riesco a spiegarmi come sia possibile che c'è il cadavere di un personaggio che è poi diremo che lei trova nel bagagliaio con tutti i granchi e che poi chiama gli altri per controllare e non c'è più niente tutto pulito come se non ci fosse mai stato nulla tutto anche quella anche quella lì esatto quindi mi chiedo come hanno fatto sembra così una scena che dici è impossibile comunque non ha niente di soprannaturale in realtà il film devo dire che però secondo me a riguardo invece della scrittura dei personaggi ecco qui forse ci addentriamo in un territorio un po' neutrale perché allora diciamo subito gli interpreti sono Jennifer Love Hewitt che interpreta la protagonista Julie poi c'è il nostro caro esatto poi c'è il nostro caro il nostro caro Freddy Prince Junior che interpreta Ray poi Sarah Michelle Gellar che veniva dal successo proveniva dal successo di Buffy che interpreta Ellen la classica biondina che c'è sempre nei film di questo genere e poi Ryan Phillip che sono appunto i quattro protagonisti di questo film che interpreta il personaggio di Barry quindi questi quattro personaggi come vengono caratterizzati? Allora insieme subito dal più bello Jennifer Love Hewitt allora esatto è la final girl la Sidney Prescott della situazione allora ammetto che nelle prime volte che lo vedevo questo film questo personaggio un po' di pena me l'ha fascinata perché comunque lei comunque non sai tutto ci è rimasta comunque male a questa cosa qui ci ha sempre pensato questo trauma comunque da una parte mi è quasi sempre piaciuto rivedendolo effettivamente è iniziato un po' a rivalutarlo ma non in senso negativo nel senso che non vuoi dare la colpa a loro cioè agli altri suoi amici esatto sì e si vuol far sentire in colpa perché questa è una cosa bella che non vuol far perché infatti c'è quel bellissimo dialogo che faccio a un certo punto con Ray perché lui ovviamente si sente in colpa e dice eh però sai mi sento in colpa per quello che ho fatto e c'è lei che gli dice no no non voglio far sentire gli altri in colpa per una cosa che abbiamo fatto che abbiamo fatto tutti esatto lui si sentiva in colpa giustamente perché era lui che era alla guida esatto sì si colpevolizza sì sì e quella scena è molto bella però da una parte secondo me forse anche grazie a Jennifer Love Hewitt non è diciamo la non è come Sidney secondo me ovviamente perché anche lei ovviamente come classica che guida sono qua per di padre esatto hanno scambiato i genitori praticamente il personaggio di Julie non è proprio la final girl tra le mie preferite ovviamente lei è un personaggio che si autocolpevolizza moltissimo su quello che è successo è l'unico di cui poi tra l'altro diremo quello che praticamente si disinteressa e cerca di dimenticare completamente l'accaduto è proprio quello dei personaggi di Barry ma poi ne parleremo però parlando di Julie devo dire è un personaggio che purtroppo come hai detto anche tu non ha il carisma di purtroppo diciamocelo di Sidney Prescott però è vuole essere una sorta di Sidney Prescott una una ragazza che però vive comunque in questo in questo contesto in cui è perennemente depressa per quello che è successo l'anno prima quindi lei è stata segnata comunque in qualche modo da questo evento diventa final girl solo semplicemente perché arriva alla fine del film e per quanto riguarda Julie devo dire fa anche buona coppia una bella coppia lei è appunto Ray che è interpretato a Freddy Prince Junior che anche lui ovviamente prima di questo film non è che avesse fatto tantissimi titoli importanti era uno dei suoi primi film era quello che so esatto uno dei suoi primi film tratto da protagonista perché poi alla fine è uno dei protagonisti assoluti di questo so cosa hai fatto quindi naturalmente devo dire il suo personaggio è interessante viene sviluppato fino a un certo punto poi se lo dimenticano perché da un certo punto in poi da quando passa l'anno quindi quando c'è il stato temporale di un anno non c'è più il personaggio direi compare giusto in due scene due tre scene che insieme ai nostri protagonisti e basta Freddy Prince Junior devo dire la sua prima esperienza d'attore protagonista in un film slasher devo dire sarà che aveva piuttosto bene perché ha proprio quell'aria da non di Billy Loomis ma molto più quasi da Derek ecco che poi vedremo da ragazzo qualunque sì da ragazzo comunque qualunque perché poi alla fine ho detto il rapporto comunque che c'è tra loro due tra lui e Julie è molto buono cioè si vede che comunque erano innamorati poi hanno dovuto separarsi per i motivi di cui sappiamo per quanto riguarda Ray è un personaggio molto ambiguo più che altro in effetti sì è vero una cosa che ovviamente non si è detta è che lui di lavoro fa il pescatore e guarda la coincidenza quello che uccide un pescatore quindi giustamente quello che lui dice potrebbe essere lui esatto e che lui in tutte le scene cerca sempre di spornarla a Julie di andare avanti sempre ci prova è interessante vedere che si creano quasi due fazioni tra virgolette perché c'è Ray e Julie che si oppongono a letteralmente ad occultare il cadavere che dicono ma sì dai siamo ancora in tempo andiamo a denunciare andiamo a denunciarci da soli perché insomma siamo stati noi a compiere questo incidente dobbiamo prenderci le nostre responsabilità ma in realtà poi c'è Barry e Ellen che decidono ecco l'altra coppia che poi vedremo diremo che sono quelli che si oppongono e dicono no noi dobbiamo occultare i cadavere perché insomma comprometterà il nostro futuro il nostro futuro alle università il nostro futuro come attrice appunto nel caso di Ellen che voleva diventare attrice è un po' questo il senso però in realtà si vedrà un personaggio di Ray molto consapevole di ciò che ha fatto si è pentito di ciò che ha fatto sì ma lui è riuscito al contrario di Julie ad andare avanti e come hai detto tu cerca di spronare lei ad andare avanti nonostante comunque si siano lasciati però adesso passiamo al personaggio di Sarah Michelle Gellar perché appunto è il personaggio di Ellen ed è un personaggio tipico dei film horror il classico personaggio la classica ragazza biondina che vuole fare infatti vedremo nel film è una sorta di letteralmente celebrità locale perché appunto viene eletta come la più bella della città o del paese proprio dello Stato adesso se non ricordo male tanto che gli danno questa tipo Miss Italia diciamo così ecco gli danno questa corona con la fascia e tutto il resto e quando gli chiedono che cosa vorrebbe fare dopo lei dice no io voglio fare per il nostro paese l'attrice per lavorare nello spettacolo e tutto il resto è un personaggio un po' così molto come si suol dire classico no? l'abbiamo già visto in numerosi film slasher con un personaggio del genere solo che comunque Sarah Michelle Gellar dà quel fascino in più che comunque mancava forse ad altre attrici un po' più anonime ecco diciamo così da quel fascino in più esatto quindi il personaggio di Ellen tra l'altro anche lei se vogliamo dirla tutta è anche un po' tormentata il suo personaggio perché lei sì nonostante è passato un anno comunque è ancora tormentata dal fatto che dice abbiamo ucciso questa persona qua e quindi è l'unica che dà ascolto a Julie in realtà è l'unica che asseconda Julie nell'indagine anche perché poi tra l'altro subirà una sequenza tra l'altro inquietantissima in cui gli verranno tagliati i capelli cioè lei che si sveglia si sveglia tipo il padrino si sveglia invece che con la testa mozzata di cavallo ma con i capelli tolti con scritto sul muro soon anzi sullo specchio soon quindi Saramice Geller riesce a interpretare magnificamente questo personaggio adatta per il ruolo sicuramente è un personaggio molto vabbè ci deve essere sempre in questo tipo di film come anche in Screamer c'era la bionda che moriva però in quel caso in Screamer perché qua ci hanno voluto sì e anche qua ovviamente anche Tatum anche Tatum è vero è vero infatti un po' ricorda Tatum come Sidney effettivamente Sidney Tatum esatto esatto la grandissima Rosemary Bowen da segnalare anche il fatto che l'attrice appunto Saramice Galagard ha conosciuto Freddy Prince Junior su questo set si sono messi insieme si sono messi insieme sono sposati infatti poi li rivedremo anche in chiave cinematografica ancora una volta in realtà in Scooby-Doo esatto nei due film di Scooby-Doo nonostante non so un personaggio comunque lo è come iconico nella scena soprattutto della parata lì anche nella scena di inseguimento è un'ottima skin queen la cara Saramice Galagard molto bene al suo perché si 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 infatti infatti e adesso passiamo all'ultimo dei protagonisti che appunto è interpretato a Ryan Phillip ed è il personaggio di Barry che è il personaggio credo quello più antipatico di tutti è quello più bisbetico più in realtà quello più viziato di tutti quello che in realtà poi alla fine scopriremo essere in una famiglia di ricchi perché c'è sta villa immensa e quindi è un personaggio che è uno di quelli che è andato avanti tanto che lui proprio non si interessa minimamente di quello che è successo l'estate scorsa infatti c'è quella scena in cui lui dice uh c'è scritto un messaggio che paura cioè non si interessa diciamo particolarmente la prende un po' a scherzo e tra l'altro è il personaggio che subisce di più in realtà le angherie dell'assassino perché viene minacciato mentre tipo in quella palestra lì tra l'altro che gli ruba i vestiti ho detto io che cos'è ma da bene gli ruba davvero i vestiti vabbè gli ruba i vestiti per provocarlo così lui esce fuori e lo investe con l'auto però ovviamente lui si salva e non lo uccide di proposito perché naturalmente doveva raccontare ai suoi altri amici quello che è successo perché giustamente poi finisce con un braccio rotto ma comunque poi alla fine è uno di quei personaggi che vuole trovare un modo per in realtà fermare questa cosa per fermare chiunque si cieli dietro l'identità dell'assassino e infatti poi ecco se la prenderà con un personaggio secondario che si vede che hanno questo antagonismo dalla prima scena che è quello interpretato da Johnny Galecki appunto Leonard di Big Bang Theory che qui interpreta i personaggi di Max che per certi aspetti comincia un po' a sospettare anche di questo Max perché dici magari è stato lui perché è l'unico che li ha visti lì appunto durante l'incidente non ha fatto nulla perché non sapeva giustamente però magari forse qualcosa sapeva passava lì di proposito sì esatto è passato di proposito valla a sapere comunque in ogni caso c'è questi battibecchi tra loro due infatti c'è il momento in cui lo va a minacciare dice adesso non ci darà più fastidio invece no in realtà poi alla fine non c'entrava niente poveretto perché poi alla fine viene ucciso il personaggio di Max quindi Barry qui è un personaggio come ho detto antipatico perché naturalmente è uno di quei personaggi proprio che se vogliamo dirla tutta mi ha ricordato molto Billy è un mix tra Billy e Stu letteralmente Barry non lo so veramente è un personaggio antipatico infatti poi alla fine che fa dici vabbè forse un po' se lo merita perché è quello che poi alla fine dice a tutti dobbiamo occultare il cadavere basta veramente è proprio glaciale il suo personaggio algido e glaciale antipatico quindi il personaggio di Barry Cox interpretato da Ryan Phillips anche lui attore non particolarmente famoso ai tempi ma sì sì infatti avrebbe fatto poi dopo Queen Tension sempre con Sarah Michelle Galler esatto sì esatto allora ti posso dire grandi dopo grandi dopo io ti posso dire ovviamente che il suo personaggio secondo me un'età anche te forse è quello più incazzoso quello più risuoso quello che mette più le mani insomma dove dovrebbe metterle secondo me invece è il personaggio che ha sofferto di più secondo me perché quindi tu dici che maschera con la violenza dici sì perché infatti nella scena quella che hai detto te quando fa un bigliettino quando c'è non so se hai notato quando c'è lei che gli dice quella cosa lì controlla se la madre la sentita è quello che cerca di nascondere la cosa e passa diciamo che è quello che vuol passare da quello che non ci pensa ma è quello che secondo me ha più paura secondo me però non vuoi farlo vedere esatto è quello che ha più paura di tutti in realtà sì sì questo anche per dire che in realtà gli unici personaggi che moriranno di questo quartetto sono proprio quelli di di Barry e quello di Ellen quindi in realtà tra l'altro la morte di Barry io l'ho sempre trovata un po' non lo so l'ho sempre trovata un po' deludente perché mi aspettavo che ci fosse un po' più di suspense in più perché poi alla fine compare l'improvviso dietro lui non combatte neanche vabbè e muore subito quindi è una cosa che per certi aspetti è circolare no? lui ha compiuto ed è stato quello che in effetti è quello che ha detto occultiamo il cadavere quindi non facciamo niente per aiutare questa persona che abbiamo investito o comunque andiamo andiamo a denunciarci non l'ha fatto quindi in realtà è proprio l'assassino che dice adesso ti ripago con la stessa moneta poi vabbè non pago che poi alla fine l'avrebbe ucciso come abbiamo detto il personaggio di Sarah Michelle Gellar appunto quello di Ellen incontrerà anche lei la morte purtroppo e tra l'altro devo dire anche lì in seguimento bellissimo passiamo ai personaggi secondari perché comunque ci sono un paio di personaggi secondari che secondo me sono abbastanza interessanti soprattutto l'assassino abbiamo anche altri personaggi secondari tipo quello di Melissa che è il personaggio di Anna Eck interpretato da Anna Eck che anche su di lei ci si pongono anche delle domande perché ci si pone nel caso possa essere lei l'assassino perché si muove anche in maniera molto strana lei è una donna un po' strana sta in questa casa da sola che poi tra l'altro era dato l'anno prima che uscisse Psycho quello di Gus Van Sant dove era anche interpretava il personaggio della protagonista che poi vabbè la scena di Psycho la ricordiamo tutti ambigua no? si si no è molto ambigua soprattutto come perché gli occhi che ha sono molto inquietanti ha uno sguardo a Anna Eck molto inquietante anche il taglio di capelli era un po' ha un taglio di capelli e uno sguardo molto inquietante diceva ma potrebbe essere lei l'assassina si perché tra l'altro c'è in quella scena in cui va con il coltello davanti a Giulio la scena è inquietante ma lei si gira Giulio e c'è lei che gli sta buttando il coltello esatto che era molto inquietante ma lì probabilmente avrebbe tutte le motivazioni per ucciderla per chi è entrato in casa senza dirgli nulla esatto quindi violazione di domicilio diciamo che il suo personaggio è interessante perché comunque ci fa appunto scoprire il fatto del fratello il fratello suo era fidanzato con la figlia di chi poi diremmo dopo esatto ed è per questo che comincerà a uccidere però poi dopo se lo dimenticano dopo non è più utile sì in realtà se la tengono soltanto per farti sospettare di questo personaggio poi alla fine in realtà riuscirà a dare comunque una risoluzione importante a Giulio perché la capisce determinate cose e dice ah ok quindi non è così quindi la persona che abbiamo investito non era tuo fratello quindi Anna Ek è un personaggio di quelli che è stato introdotto giusto anche un po' innanzitutto per dare delle spiegazioni in più a determinati personaggi misteriosi che abbiamo visto nel film ma anche soprattutto anche per sospettare di lei perché insomma noi sospettiamo anche di lei perché in parecchie occasioni si comporta in maniera strana risponde in maniera molto ambigua sembra che letteralmente sia lei l'assassino però in realtà ovviamente non è così ci sono dei corpiscina molto interessanti tipo quello in cui noi pensavamo fosse proprio il fratello del personaggio di Anna Ek essere stato investito da loro quindi appunto che a loro avessero occultato i cadavere ma in realtà non è così perché poi alla fine era un'altra persona sicuramente è un colpo di scena che ti lascia sicuramente con la bocca spalancata tipo il genere di Aladdin esatto sicuramente perché comunque non te l'aspetti sì sì alla fine si scopre che praticamente questo si scopre che il fratello di Anna Ek praticamente aveva tipo fatto un incidente in cui è rimasto ferito e insieme a lui c'era anche la sua fidanzata che si scopre essere la figlia la figlia di un certo Ben Willis esatto e in quella scena lì rimane un po' colpita e dici chi cacchio è questo Ben Willis esatto non l'abbiamo mai visto esatto non l'abbiamo mai visto quindi chi è quindi diciamo che questo colpo di scena finale che alla fine appunto in questo incidente questo qua si è rimasto ferito e si è morta questa qui che è appunto la figlia di questo di questo Ben Willis e comunque non te l'aspetti quindi essenzialmente questo è il colpo di scena devo dire molto interessante perché inaspettato perché non ti aspetti minimamente che possa essere Ben Willis l'assassino perché poi quando lo scopriamo e perché poi tra l'altro bellissimo quel momento in cui Giulia arriva da Ray vede scritto sulla fiancata del peschereccio Billy Blue e dice allora sei tu sei tu allora lei comincia a scappare lei comincia a scappare lui la insegue dicendo no non è come pensi non è come pensi e arriva questo tizio qui a caso che stende Ray che lo tramortisce esatto lo tramortisce e dice a Giulia ah vieni con me che ti aiuto io e poi ovviamente come ho detto poi si svilupperà il finale ha incentrato tutto sul peschereccio e tutto il resto però naturalmente adesso dobbiamo siccome vi abbiamo detto l'identità del serial killer di questo film cioè appunto Ben Willis è stato interpretato da Muse Watson Ben Willis è un assassino di quelli proprio interessanti perché naturalmente il design è meraviglioso cioè questa cerata da pescatore l'uncino nella mano non mi ricordo se destra o sinistra purtroppo sinistra che usa come arma quindi come arma bianca per uccidere le persone allora la morte di Evelyn la trovo bella per tutta la sequenza quella di inserimento mi piace mi coinvolge sempre è molto confusionaria con me è molto giocata sui chiaroscuri sì sui chiaroscuri sul buio sì guarda invece la morte di Belly è molto secondo me è bella come sequenza è molto bella però il problema questa scena secondo me ha un grosso problema secondo me perché c'è appunto Sarah Michelle Gallagher che urla e nessuno la tracca ogni volta che la vedo penso ma scusate questa qui è tecnicamente triste è disperata è disperata ha visto l'omicidio del suo vidanzato e la gente la guarda come di ma che sta facendo sta pazza per me è l'unico difetto di questa scena perché per il resto per me è una buona morte non si vede niente di che si vede sì anche lì niente di che è vero invece quella di Max quindi secondo me l'unico problema della morte di Ryan Phillips è proprio quella scena lì che viene presa con una parte esatto sì sì è vero è un po' smontata quella parte lì è vero devo dire che Max muore in maniera molto violenta tra l'altro un cancio nella gola mamma mia oserei dire che è la scena più violenta del film è vero sì sì è vero è vero arriviamo alla fine del film perché appunto c'è questa sequenza tutta ambientata sul peschereccio di Ben Willis dove lei a bordo e lei comincia a capire che in realtà lui è l'assassino dice no non posso crederci sei tu c'è Ray che subito si riprende si getta in acqua e riesce a raggiungere immediatamente il peschereccio all'interno Giulie perché appunto il nostro caro assassino Ben Willis naturalmente decide di rivelare la sua identità di essere stato lui a commettere tutti gli omicidi e tutto il resto e poi vabbè la famosa frase la prossima volta assicuratevi che una persona sia davvero morta e poi c'è quel momento un po' in stile Final Destination in cui lui dice questa frase c'è Ray che tipo taglia una corda e a lui tipo che gli viene tagliata la mano e lo fanno cadere in acqua e non si sa che fine farà quindi diciamo ufficialmente il personaggio dell'assassino a sto giro non viene ucciso esplicitamente cade in acqua semplicemente perde una mano questo è sicuro perché vediamo proprio la mano che gli viene tranciata in etto naturalmente il film finisce così tutto tranquillo tutti felici e contenti lei si è rimessa con il nostro caro Ray quindi Julie si è messa di nuovo con Ray mentre è all'università trova un bigliettino che tu dici anche lì il momento suspense c'è il momento in cui dici oddio invece no il bigliettino è l'invito alla festa e poi c'è questa cena qui che non si capisce bene se è un sogno o meno in cui non si sa se è un sogno o meno ma c'è il pescatore quindi appunto il personaggio di Ben Willis che torna e sfonda il vetro del bagno comunque della doccia di Julie ovviamente il film finisce così quindi non sapremo effettivamente cosa è successo in realtà ti posso dire che a me il finale di questo film ti piace tutti i combattimenti finali ammetto che è molto frenetico ammetto che questo finale ogni volta mi lascia coi dubbi perché dici potrebbe essere vero come no però in effetti da quel che si può evincere sembrerebbe quasi un sogno perché poi il modo in cui lui distrugge la vetrata sembra così come se fosse un sogno almeno per lei forse magari fosse un incubo in realtà più che un sogno nonostante siano passati quei 27 anni è un film che tutt'oggi si regge ancora abbastanza bene e si sente anche un po' quel passaggio dalla fine degli anni 90 all'inizio anni 2000 con i film che hanno cominciato un po' a cambiare anche e soprattutto il genere slasher che cominciò a cambiare piccola menzione alla colonna sonora di John Debney che ha fatto un buon lavoro non quanto quella di naturalmente Marco Beltrami che è un po' più iconica almeno io me l'ha arrivato un po' di più quella di Marco Beltrami in Scream quella di John Debney non è affatto male riesce comunque a rendere le sequenze dal forte impatto a cardiopalma l'impatto di tensione nei suspense quindi insomma è abbastanza geccata secondo me però me l'ha fatto male non è iconica però per il tipo di film che secondo me non è male e naturalmente il film una volta uscito nelle sale è stato un clamorosissimo successo perché naturalmente la gente era affamata del filone slasher riportato in auge grazie a Wes Craven l'anno precedente con Scream e infatti il film guadagnò la bellezza di ben 125 milioni di dollari in confronto ai 17 milioni di budget insomma è stato un clamorosissimo successo e il sequel fu inevitabile infatti l'anno successivo ci fu Danny Cannon che portò ma questa è naturalmente un'altra storia portò il seguito cioè appunto incubo finale ma che in originale però I still know what you did last summer che appunto è so ancora cosa hai fatto l'estate scorsa che in Italia però è stato distribuito come incubo finale è stato accolto molto tiepidamente dalla critica che non l'ha particolarmente apprezzato a livello di cult ovviamente siamo ai livelli di Scream ovviamente perché comunque anche questo come Scream è diventato un cult devo dire che io personalmente parlando in poco tempo un po' come Scream dici si è affezionato io ci sono affezionato sì anche per via anche degli attori diciamo anche per l'ambientazione applicato anche per gli attori voglio ringraziarli intrattiene coinvolge perché comunque è una storia che ti coinvolge sì un po' dimenticato anche e questo un po' mi dispiace quindi naturalmente con questo giungiamo al voto che assegniamo al film naturalmente parte prima l'ospite cioè Gabriele quindi devo dire che il mio voto appunto su cosa hai fatto del 97 del caro Gingilespi è un 6 e infatti posso concordare anche io perché comunque non è un capolavoro ovviamente nel senso è un buon cult comunque sì è apprezzabile guardabile soprattutto perché ci sono film di quel periodo lì che avevano fatto che sono più inguardabili ci sono vari titoli tipo Ripper Lettere dall'inferno insomma ci sono vari film che hanno provato a replicare il successo di Scream di Kraven questi sono dei pochi che sono invece riuscito sì 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 insieme anche secondo me anche al primo Urban Legend al primo e anche un pochino il secondo Urban Legend e niente quindi noi con questo vi esortiamo a recuperare come vi abbiamo già detto so cosa hai fatto ancora una volta ringrazio Gabriele per avermi accompagnato in questa nostra opinione comunque questa nostra recensione a riguardo di so cosa hai fatto quindi ringrazio ancora Gabriele trovate tutti i suoi canali nella descrizione del video iscrivetevi mi raccomando numerosi e naturalmente vi ringraziamo e niente Gabriele ti ringrazio ancora grazie il collega che l'avevi fatto partecipare per parlare di questo grande cult a cui siamo affezionati vi salutiamo e ci rivediamo la prossima volta ciao a tutti mi raccomando siete felici ma non troppo ma non troppo ciao 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 ciao